Il terzo o il quarto, se voi andate a vedere, i grandi progetti che ci sono negli Stati Uniti, per esempio, si dimompare, eccetera, quasi mai era il primo progetto o il secondo, quello che ci è andato importante. Quindi, invece, se stava a una scuola, si sapeva imparare, più impara, più, come ho detto, a un'unica di lavoro, era un'unica di lavoro, era un'unica di lavoro, è un'unica di lavoro. Speriamo che sia un'unica di lavoro.